Ciao Stelline, bentornate sul canale! Allora, oggi passiamo al nuovo cartone perché Tutoriality l'ho finito insomma la maggior parte dei personaggi oggi vi do i personaggi di Alvin and the Cheek Mump ovviamente iniziamo da Alvin che è il protagonista lo metterei un po' più piccolo così, metto la pelle un po' più chiara così troppo così va bene ora passiamo agli occhi allora lui è quello che si diverte sempre che fa dispetti penso che questi vadano bene poi il cuore di naso non è questo ok, bocca forse sono quale mettere o questa, no vabbè direi questa che va bene ora, prima il colore delle sopracciglia lui ha i capelli marroncino chiaro quindi le sopracciglia saranno più o meno così così va bene cambiamo anche il colore dei capelli così è perfetto qui come al solito non ci sarà niente no 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 andiamo qui vediamo un po' ecco ecco ho messo questo che lui ha proprio il ciuffo lì così ora vestiti lui ha una felpa rossa vediamo se c'è una felpa rossa qui ecco qui questa non è male altre felpe rosse questa è l'unica felpa rossa che c'è allora li lascio quella poi devo mettere il cappello rosso vediamo il cappello rosso c'è questo 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 ce ne sono un bel po' c'è no questo è un po' più arancio questo che è un po' piccolo poi c'è questo 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 che è un po' rosso scuro e questo vediamo un po' quale scegliere ecco alla fine gli ho messo quello vabbè non posso mettergli la coda o il grasso però ecco Alvin su Toc Award e adesso passiamo a Simon prima di tutto gli tolgo il cappello passiamo agli occhi vediamo ma io devo mettere questi normali bocca non tantissimo sui dente così mi sembra proprio non cioè magari così così poi scuriamo le sopracciglia che lui ha i capelli marrone un marrone un marrone più scuro di Alvin così vanno bene ora scuriamo anche i capelli così va bene qui no voi capite ha dei capelli abbastanza normali vediamo ecco penso che questa sia perfetta perché lui ha dei capelli in faccia più o meno aspettate forse è meglio questa perché l'altra sembrava un po' un ciuffo un po' rasare lui non li ha così colui li ha così e ha una felpa blu con i jeans vediamo cosa c'è c'è questa felpa blu c'è questa felpa blu poi no questa no c'è questa ma c'è quel uccello sopra che alla fine li ho messa quello secondo me perfetto e poi ha degli occhiali blu vediamo se ne ho blu ho questi ma sono un po' azzurri in realtà questo sembra un po' da femmina ho questi ma lui non li ha quadrati beh alla fine questi erano quelli che si avvicinavano di più ed ecco qui Simon Seville ora tocca a Teodor togliamo gli occhiali occhi qui è tanto dolce li metterei questi bocca metterei questa allora mettiamo le sopracciglia più chiare e li ho ancora più chiari di Alvin ecco fatta così va bene e ora scegliamo dei capelli ecco li ho messi questi perché anche lui ha dei capelli lì e secondo me andavano bene ora l'outfit lui ha una felpa verde questa non è male perché ha la cerniera poi no questo non va bene no 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 non c'è nient'altro ecco a voi Teodor Seville bene stelline il nostro episodio finisce qui spero vi sia piaciuto scrivete nei commenti se li ho fatti abbastanza simili al cartone e noi ci vediamo nel prossimo episodio muack 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 eropinto